La tecnica era quella dei vasi comunicanti. In questo modo rubava il gasolio dai mezzi di un'impresa impegnata nell'attività di estrazione di pietra calcarea incontrata Canicarau a Comiso. Un ladro seriale di carburante è stato sottoposto all'obbligo di dimora, autore dei furti un 47enne comisano. Tutto è partito lo scorso ottobre dalla denuncia del titolare dell'impresa che lamentava una serie di furti di carburante dai mezzi pesanti parcheggiati all'interno del cantiere. L'opera messa in atto dal ladro, oltre al danno del valore del carburante trafugato, provocava quella ulteriore derivante dalle ripetute interruzioni alle attività estrattive. Le indagini avviate immediatamente hanno permesso di ricostruire almeno sei episodi, consumati tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre, e di individuare l'autore, il quale in una circostanza è stato sorpreso da una pattuglia della polizia di Stato all'interno della cava mentre si accingeva per pretare l'ennesimo furto. Gli accertamenti attraverso l'analisi dei filmati di videosorveglianza dell'area hanno messo in luce la singolare tecnica utilizzata dall'uomo. Il 47enne, dopo aver forzato il tappo del serbatoio del veicolo, vi introduceva all'interno un tubo dal quale aspirava con la bocca l'aria per riempirlo di gasolio. A quel punto introduceva l'altra estremità nella tanica che portava con sé, e per il principio dei vasi comunicanti la riempiva di carburante. Operazione che è stata messa in atto più volte tanto da determinare alla parte offesa un danno di diversi migliaia di euro. E venerdì scorso, all'esito di un'attività di indagine, gli agenti di polizia del locale commissariato hanno eseguito la misura cautelare. L'uomo dovrà rispondere di furto aggravato dal vincolo della continuazione e porto in giustificato di oggetti atti ad offendere.